Italia 1, Brasile 0 Per nostro figlio, scegliamo solo il meglio E' per questo che da 18 anni ti compriamo ovetto kinder Papà, ma c'è un ragno Ovetto kinder Perché sei un bambino bene 1, 2, 3 No, aspetta No, aspetta Taglia 1 Taglia 1 Taglia 1 Taglia 1 Che prende? Che ragazze, voi ti prenderete, paga fino No! 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 Caffè Kim! No! E chi se lo scorda? Non ho ancora capito... Qualità senza risparmio o risparmio senza qualità? Ma scegli il sole! Io ho usato il Xang! 3...2...1... Dai dai! Aspetta c'è un altro ragazzo in mano dai! Ma che cos'è? Ma che cos'è? 3...2...1... Ma che schifo! Ho la tosse! Vabbè dai! Ne facciamo una... 3...2...1... Ho la tosse! Ho la tosse! Ho la tosse! Dai! Ho la tosse! 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 Grazie a tutti